L'uomo e la donna Non solo corpi, ma di certo anche quelli, che insieme all'anima scintillante brillano per un andi rivieni di piacere. Ho sentito il vostro respiro nelle mie orbite, ondeggiare in un movimento perfido, nello spazio tra le gambe e la schiena, dove si accarezza lo spirito, fiore di antonogenesi.